devi spiegare che la gente si deve iscrivere al mio canale perché più dell'ottanta per cento di loro non è iscritto al canale bimbi iscrivetevi eh? che no? i sputin no dove cazzo sei? muovi il culo che sono in piazza ma dove porco dio va? dove cazzo vai Giofa? stai con un secondo provo a fare un attimo dalla rotonda e provo a ritornare indietro no 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 tutti i getti fra porco eccola lì eccola lì bastarda non la riacchiedo sono un coglione cazzo sei, ci posso farlo? HA WHY DO MAPO no 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 perchè hai puntato verso l'alto sambo star? è un lillo lo so che ti sfrutto malamente ma mi fai un video perchè non posto un video su insta da 40 anni ti amo è un show è un show si è un show Ah, l'ho grattato di merda, però vabbè Ah, l'ho grattato di merda Ah, l'ho grattato di merda Ah, che vita di merda Ah, l'ho grattato di merda Ah, l'ho grattato di merda Una moto seria, no? Ah, l'ho grattato di merda Ah, l'ho grattato di merda Ah, l'ho grattato di merda